La decisione della Giunta regionale di sospendere l'edificabilità delle colline di Sansepolcro ha riaperto una ferita ancora fresca nel cuore della città Biturgenze, riaccendendo il dibattito politico. Per il consigliere provinciale e portavoce dei democratici per cambiare Michele Del Bolgia è un passo importante in difesa della zona che questa amministrazione avrebbe intenzione di violare senza tenere presente quale valore possieda sotto il punto di vista ambientale, culturale, storico e turistico. Fu lo stesso Del Bolgia a presentare in consiglio provinciale una mozione che si prefiggeva l'obiettivo di alzare l'attenzione sulla questione. La vicenda riguarda la previsione contenuta nel piano strutturale di Sansepolcro di edificare sulla collina che sovrasta la città fino a 3.000 m2 di nuova superficie. Contro tale previsione, Viva Sansepolcro ha intentato nei mesi scorsi una serie di iniziative di sensibilizzazione promuovendo anche una petizione popolare presentata in consiglio comunale. Ora la Regione ha deciso di ricorrere alla Commissione Parietetica Interistituzionale organismo che avrà il compito di stabilire la legittimità delle scelte adottate dal Comune. Così si legge nella nota stampa di Mirko Giubilei soddisfatto per la sospensione dell'intervento strategico numero 11 in attesa del pronunciamento della conferenza. Non è mancata la risposta dell'attuale assessore all'urbanistica Fabrizio Innocenti il quale ha precisato che la legge regionale 1 del 2005 consente comunque a tutte le abitazioni esistenti un ampliamento funzionale che il nuovo piano strutturale ha indicato in 50 m2 e che il dimensionamento complessivo dell'intervento strategico numero 11 di 3.000 m2 comprende anche i tali ampliamenti, fatte salve, le aree di tutela paesaggistica, delle ville e delle aree dove sono presenti invarianti strutturali e a rischio idrogeologico. L'assessore conclude auspicando un confronto sereno in commissione per quanto non manchi di far notare come la conferenza parietetica sia stata convocata solo per le amministrazioni di centrodestra ricordando il caso di Castiglion della Pescaia.